Sono 534.753 i vaccini somministrati dall'Aspenissena dall'inizio della pandemia tra il Siero MNRA, l'AstraZeneca che è uscito fuori produzione e il vaccino di ultima generazione Novavax che nonostante le ottime aspettative non decolla. Continua la campagna vaccinale al lab di Caltanissetta che si trova al Cefpas. Ridotti gli orari di apertura data la bassa affluenza e l'impiego di personale che presta servizio negli hub e negli ambulatori vaccinali. Il Cefpas riceve l'utenza il lunedì mattina e il martedì pomeriggio, il mercoledì mattina, il giovedì pomeriggio, il venerdì mattina, il sabato mattina al Casale e la domenica pomeriggio sempre al Casale per chi vorrà vaccinarsi. E intanto fa il punto della situazione il responsabile dell'emergenza Covid per la provincia di Caltanissetta, il dottore Benedetto Trobbia. Dottore Trobbia, il punto sulle quarte dosi in provincia di Caltanissetta come sta andando la campagna vaccinale? Abbiamo anche in provincia di Caltanissetta iniziato immediatamente la somministrazione delle quarte dosi così come da indicazione dell'AIFA e quindi dell'assessorato della salute. Ad oggi le indicazioni sono quelle di vaccinare i soggetti over 80 nonché i soggetti di età compresa tra 60 e gli 80 anni affetti da patologia di cui ha l'allegato 2 nonché gli ospiti appunto delle case di riposo e delle RSA. Quanti sono i pazienti che avete vaccinato sinora con quarta dose? Ad oggi abbiamo effettuato circa la somministrazione di un migliaio di dosi. Perché così pochi numeri rispetto alla popolazione di quella fascia d'età? Sicuramente le indicazioni sono restrittive. Noi siamo aperti, la vaccinazione non è obbligatoria, è fortemente raccomandata per cui noi auspichiamo di vaccinare quando più gente possibile nel più breve tempo possibile così come abbiamo fatto per il ciclo primario piuttosto che per la somministrazione delle terze dosi. Parliamo di Novavax. Perché? Quanti vaccini avete fatto con questo nuovo siero? E perché non sta decollando tutto sommato? Novavax abbiamo effettuato oltre 100 somministrazioni ad oggi e naturalmente anche qui le indicazioni sono stringenti. Il vaccino a DNA ricompinante, quindi a base proteica, può essere somministrato nei soggetti a partire dai 18 anni di età solo per ciclo primario, per cui in soggetti che non sono stati precedentemente vaccinati. Ma si voleva centrare tutta quella fascia di popolazione che diciamo era contro vaccino, che erano i Novavax e invece? Anche in questo caso la vaccinazione non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, per cui noi siamo disponibili e siamo in open per la somministrazione delle dosi. Come vi state organizzando per la nuova campagna vaccinale che arriverà probabilmente a settembre? Avete già delle indicazioni? Cosa farete? Attendiamo in atto indicazioni da parte dell'assessorato per organizzarci in tal senso. Naturalmente noi, così come per la somministrazione della prima e seconda dose piuttosto che della terza dose, siamo pronti e ci organizzeremo in un lasso brevissimo di tempo per garantire la somministrazione a quanti ne faranno richiesta.